Mi chiami? Ciro. Ciro, da dove vieni Ciro? È un cittadino del mondo, è un cittadino del mondo, è fantastico. Cosa fai per la vita? Ingegnero. È un ingegnere del settore? Telefoni nazi. Oh, un ingegnere delle telepubblicazioni, perfetto. E come vorresti al tuo nome ideale? Sì, al telefono. È la domanda, è difficile. È più facile che fare una domanda se c'è un'infinizione. Sì, tanti simbologoni, però più che altro. Ora senti che sinteticamente è difficile, è tutto di avere conti. Però ognuno si sa, per se una voce, possibilmente per esempio, ha detto possibilmente, è ingegnere l'ultimo. Vabbè, per essere 12 lo devi colpire, spero che è un rombo che è un frattino. Guarda, ecco qua, ho messo messaggio per te, auguro questo messaggio che ha inverno. Speriamo, dai, ok, bravo.